amici buongiorno siamo al lago santo modenese prima volta per belle folle al lago santo modenese e vi ci portiamo molto ma molto volentieri finalmente dopo due anni che siamo qua veniamo a vedere il lago santo abbiamo già parcheggiato la macchina parcheggio a pagamento un euro all'ora tutti i giorni dell'anno poi ci sono anche tariffe convenzionali ma vabbè ma quanto è bello camminare nella neve guarda un po che non ci camminavamo e quindi siamo molto felici oggi c'è un bel freschino eh però che figata sembra tutto incantato tra l'altro amici oggi collaudiamo per la prima volta la nuova insta 360 ace pro la sto usando in questo momento mi stavo anche ammazzando e al momento mi piace siamo arrivati al lago santo ed è pazzesco poi c'è questo gioco di luci e ombre perché è mattina quindi meraviglioso non ci eravamo mai stati mai stati pensate che ho letto che in inverno si possono formare addirittura 50 60 centimetri di ghiaccio sul lago che al profondo ben 10 metri guardate qualche roba guardate che roba c'è tutta questa bellissima passeggiata tra l'altro intorno al lago quindi è possibile non credo che si arrivi dall'altra parte però però c'è un bel pezzo di passeggiata che da poter fare almeno da un lato i colori sono super questa mattina arrivati al rifugio giovo molto importante stare lontani dal tetto casca la neve ragazzi siamo arrivati al rifugio giovo non che alla fine della sponda fin dove si può arrivare camminando diciamo e dopodiché parte un sentino nel bosco che adesso non faremo e però sono troppo curioso di vedere quello che si vede dalla su quindi adesso si vola ciao 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 andare giù un po' di fretta, infatti io sono di fretta e lei se la prende con calma. Comunque andiamo. Si sente fino a qua il profumino del rifugio. Ragazzi non sono riuscito manco una volta a riprenderla. Come un ninja, non mi faccio vedere. A riprenderla mentre cadeva, ha rischiato di cadere almeno 10-12 volte. Laika ninja. Laika ninja, ma non l'ho presa. Arriverà anche quel momento. Bene ragazzi, chiudiamo questo video direttamente dal parcheggio del lago santo. Parcheggio che abbiamo pagato molto molto volentieri. Eh sì, ci sono anche dei bagni pubblici, ho visto. È bello, bellissimo. Comunque, comunque ragazzi, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi perché noi parleremo di tutto, montagne, avventure, viaggi, eccetera eccetera eccetera. E chi più ne la ne metta. Chi più ne la ne metta. Attivate la campanella per rimanere sempre connessi con i nostri contenuti e mettete un like questo video se vi è piaciuto. Per qualsiasi domanda vi aspettiamo qua sotto nei commenti. Al prossimo video. Ciao!